cari figlioli ben ritrovati quello lì mi stava spero vi ho visto che spiavi e mannaggia ben ritrovati sul canale io come sempre sono dei e in questo c'è un raptor nota è la prima volta che do spawnare qua un raptor siamo vicino alla nostra base figlio più in là abbiamo la nostra base e stavo guardando questo passaggio qui che potrebbe essere facilmente al girato installandoci un ponte tech sapete una novità di questo dlc che però è ora come ora non possiedo e non posso craftare perché mi serve quel stramaledetto replicatore il replicatore te che io l'avevo ottenuto affrontando un drop se vi ricordate l'avevo fatto anche vedere poi una volta ottenuto bisogna andare in qualche terminale per esempio sono andato nell'arena del boss del deserto al quale suo interno poi si viene visualizzato il engramma tech che ci chiede poi tutte quella marea di quantitativi per poterselo craftare tutto contento mi sono fatto la nostra fucina industriale quindi adesso produco davvero tanto metallo per poi scoprire che hanno modificato hanno fatto in un altro aggiornamento e ora a quanto pare bisogna sconfiggere un boss per poterlo avere il replicatore e quindi mannaggia la peppa sti programmatori mi hanno già fatto tritare tre quarti dei testicoli ma vabbè una cosa positiva l'hanno fatto ora adesso il fumo del drop guardatelo laggiù si notamente a distanza di chilometri invece prima non era così bisognava andare più vicino almeno un vantaggio ce l'abbiamo allora figlioli visto che siamo chiamati per vari motivi ad affrontare varie ondate di nemici pv e in pv e tipo di drop tipo nelle vene di elemento che poi vedremo più avanti mi servono creature molto forti si è vero i velenosauri sono molto forti fanno molto danno ma hanno poca vita e purtroppo poi nel faggio dopo nel faggio consumano veramente un botto di stamina e quindi mi serve un animale un po forte un po potente un t-rex non è un granché onestamente io non muoio per i t-rex mi piacerebbe un giga però come sapete il giga poi si incazza e mi fa il culo quindi cosa mi è rimasto beh mi è rimasto il golem credo che sia una buona alternativa oltre essere forte con tanti punti vita lui dovrebbe ridurre il danno subito quindi dovrebbe avere un danno percepito al mi sembra 50 per cento e meno credo non ricordo e anche questo qua non sarebbe male lui che grida l'urlatore lo iutirannus magari mi potrebbe boostare adesso non mi vedere livello per sono ancora fuori della cupola ok mi potrebbe boostare le mie creature livello 5 schifo no noi siamo razzisti con quelli che hanno sotto sono sotto livello 100 ecco mi ha già guardato che mi ha già colpito il suo urlo maledetto vabbè allora sì mi cercherò un bel golem e poi ce lo tamiamo figliuoli allora tamarsi un golem ancora non è un gioco da ragazzi prima di tutto bisogna farsi il cannone che richiede un bel po di materiali quasi mille di metallo prendiamoci mille di metallo ok ce ne possiamo craftare uno vai ok figliuoli ho trovato una zona abbastanza interessante per farmare l'ossidiana che al momento è forse la risorsa più ah no stai vicino a me stai vicino a me è forse la risorsa più difficile da trovare no no perché ah non posso muovermi tu vieni vicino a me porcaccia smettila di combattere vieni vicino a me no vicino un altro aspetta ok astardi non si può mai stare tranquilli un secondo e mai 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 ok seccati tutti morite morite ok guardate che bellina che questa zona qua c'è un po di acqua si può anche bere poi quasi tutta la zona coperta adesso mangiamo un attimo che se no c'è tutta una zona coperta con delle grosse pietre di metallo quindi va benissimo per farmare metallo guardate guardate quante ce ne sono sparse un po ovunque però sono belle grosse e danno veramente tanto tanto metallo adesso io mi sto facendo ovviamente l'ossidiana che mi serve per fare le pare di cannone ah sì per la cronaca per la cronaca la zona e guardate siamo su in alto questo pallino qui longitudine 12 no latitudine 12 longitudine 20 ok mi sto costruendo le strutture che mi serviranno poi a imprigionare a bloccare i colpi e il golem stesso ok ho portato un po tutto qua nella nostra mini basetta che mi sono fatto nel deserto che praticamente dovevamo tamato il primo velenosauro adesso però ci serve l'alimento per quella creatura lì che sarebbe l'ideale sarebbero le kibble di mantis che poi ovviamente noi non abbiamo però lo zolfo che il suo secondo migliore alimento lo troviamo in fondo alla mappa ovest ovviamente qui fa davvero tanto caldo quindi perderemo vita e beccamelo a porcaccia perderemo vita così senza fare nulla qui c'è veramente di tutto di più ok ci sono tanti spino qui bisogna fare attenzione ok queste pietroline qui piccoline figlioli ci restituiscono zolfo ok e anche gas condensato che onestamente ancora non so a cosa mi serva ok figlioli ho preso tutto quello che ci serviva però cavolo ci stavo di nuovo lasciando le penne mannaccia allora vediamo un pochettino dov'era dov'era eccola qui livello 105 quindi direi abbastanza buono adesso mi costruisco la trappola qua sotto e poi me lo porto in qua ok mettiamo i due portoni qua ai bordi così in teoria non dovrebbe riuscire a passare qua ci sono i cristalli che li rompono le palle noi li lasciamo qua i cristalli perché se dovessi toglierli secondo me ci passa sì quindi noi ci potremmo poi bene a destra non mi frizzare che mi fai un infarto se crasha tutto allora poi ci mettiamo pillar sette se non ricordo male ce lo mettiamo anche un pochettino più in qua così lui magari entra si incastra tra i due portoni c'è lo spazio di entrare un po di più 1 2 3 4 5 oddio non mi ricordo quanti dove uno essere secondo me erano 7 ok solo che adesso come faccio arrivare lassù cavolo mi serve l'argentavis ora ne ho messi 6 di pillar adesso vediamo se no non voglio voglio salì ma porca fammi salire non le pietre ok vediamo se così riesco se se ottimo poi di fianco la visuale si non è proprio il massimo però se ok così dovremmo essere al sicuro mettiamoci questi qui chi è che rompe le scatole ora onestamente non ricordo se cavolo dovrei andarmi a guardare il video che ho fatto di arco online dove ci tamavamo il golem perché così onestamente provo a metterne uno qui così tecnicamente così non dovrebbe riuscire a lanciarci le pietre vediamo il ferro in foundation qui il cannone qui entoria dovremmo riuscire a sparicchiarlo dai ok andiamoci a chiamare il nostro golemmino dove sei che si mimitizza bene qua e lui a e la giura vieni vieni seguici a che mi tira già le pietre 161 ma fatto questo che vuole questo che vuole no 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 niente pietre io c'ho poca salute con questo no non ti fermare dai cazzo che sfiga mi ha preso la coda oh porca caccia forza forza che ce la facciamo dai vieni qui basta con ste pietre mannaccia aia mazza che botte o quanto mi ha fatto 85 o ops no vai avanti ok e scendi ok mettiamocelo bello al centro no 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 vieni qua vieni qua vieni qua no no ma porca scusi ciccio bravo venghi venghi vediamo adesso la pietra in teoria vediamo vediamo un pochetto come si schiantano quelle pietre ok come vedete la testa ce l'abbiamo a nostra disposizione mentre le sue pietre tecnicamente diamo cosa mi lancia no oddio c'è me l'ha lanciata altissima adesso cerchiamo di capire dove le lancio così posizioniamo poi la foundation nel punto giusto e credo che qua sia una buona posizione vediamo guardate io per sicure per sicurezza questo qui me lo metto alto così ecco forse magari sì avremmo avremmo dovuto mettere sette pillar invece di sei ok lo sapete voi per la prossima volta allora andiamoci a prendere e l'ultime cosucce fermati ok ho messo giù le piattaforme poi per sicurezza ho messo dei muri qualora qualche colpo dovesse arrivare credo di no per sicurezza ce lo mettiamo poi qui così credo che credo che così dovrebbe andare benino ci mettiamo il nostro cannone così vediamo se riesco ok mettiamo lui in passivo poi c'è un sacco di pale di cannone con me vediamo dai esci fuori sì veloce 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 guarda guarda come cacchio le lancio a ste pietre vabbè no 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 dove vai dove vai no ma no ma dai vieni qui bravo stai così con la testolina lì mi raccomando che ti faccio la foto ok no sto muro mi rompe le pale distruggo via ok allora adesso dobbiamo sbagliato a schiacciare guarda la pietra guarda la mi sono sbagliato mira su ok palla di cannone si buono vai così nice aspettiamo che lanci la pietra ok veloce dave veloce che lo voglio nostro si aspettiamo che lanci una pietra ok benissimo e via a ripetizione vai ok non dovrebbe più mancare molto perché se non sbaglio 6 7 palle di cannone ne abbiamo già date quante 6 credo vediamo è un livello ciano livello 110 ce ne vogliono ok ai dai che sei giù dai che sei giù nice e giù baby giù molto bene ok ho finalmente andato tutto bene ci ho messo buono sotto di tipo due ore per prepararmi forse anche di più di due ore per fare tutto quel metallo quell'ossidiana ce ne voluto un po che poi qua intorno guardate c'è della bella ossidiana ce neanche lassù si vede un pochetto ok andiamo a prendere il suo cibo che ho messo e ho stipato qua allora nei server ufficiali credo che ci vogliono tipo quelle dieci ore se non sbaglio qua col moltiplicatore a per tre tecnicamente dovremmo fare molto più veloci allora cari figlioli è passato davvero tanto tempo io mi sono preparato la cena mi sono rimpinzato per bene la panza mi sono guardato un film adesso vediamo se lui ad avere fame vediamo un pochettino gli ho dato un po di narcotici e questo è quello che ha perso sta a c'è a 13 mila e tre a fronte dei 15 mila e sei non tantissimo però direi incominciamo proviamo a dargli da mangiare vediamo di quanto sale per tre insomma un 3 per cento boccone dai non è anche 1.5 per cento boccone è dura guai è dura poi nel frattempo ci dobbiamo fare la sella ricordo a chi volesse emulare queste mie gesta che la sella va sbloccata precedentemente con lo stesso sopravvissuto nel giusto dlc diversamente non potremmo sbloccarla vediamo un pochettino golem eccola qua io l'ho già sbloccata non costa neanche tanto 35 pezzi di metallo quindi va bene ok tutto il tempo che l'ho lasciato qui purtroppo non è stato sufficiente pensavo fosse fin troppo invece no sto piangendo dai 93 dai dai adesso si fermerà a 99.9 dai sì sì 98 99.1 matta che non ci credo figlioli si è di nuovo fermato a 99 nel quesera 99.9 se non sbaglio a 99 ma porcaccio ma porcaccio sì 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 è nostro è nostro ha mangiato pochissimo pochissimo zolfo pensavo che volesse molto di più bene figlioli allora vediamo un pochettino livello 136 credo che il oddio non c'è non ho neanche guardato ma credo che il timing fosse buono oltre al 99 per cento allora c'è assolutamente 8006 dei 33 mila e passata era prima vigore 990 credo che sia poco cibo poi peso può trasportare davvero poco essendo un gol mi sembra così grosso e potente 8 58 è decisamente pochissimo danno da mischia e velocità di movimento che io mi vado a fare la sella e poi non lo so che facciamo lo proviamo qua massi da lo proviamo con quale il deserto stai qui buonino anche adesso arrivo ok eccoci qua con la nostra bella sela adesso gliela sbattiamo sopra e proviamo sto quando non ti mangiare tutto lo zolfo e che possiamo schiacciare con niente no questi qua mi dispiace dai tu draghetto vieni con noi se ci riesci allora lentuccio lentuccio il gobbene anche più di tanto alla fine infine facciamoci fuori lui ho detto che mi devi stare vicino non che mi devi entrare nel culo mannaccia vai vai 356 facciamo con la pietra mentre con i colpi così quanto 258 credo di sì allora sì il golem al 50 per cento draghetto ma che cacchio mi ha sollevato ma porcaccia via via qua via che ti schiappiccio tutto 285 dai non è male non è male 285 facciamo la mossa dal resto un wrestling e davanti e dietro tutti tutti qui intanto dal piove nel deserto quanto è figo la pioggia nel deserto occhio al carno perché non mi posso muovere sono appesantito ma dai quanta roba ho preso via 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 dove sei traghetto via qua facciamoci fuori sto carno qua 285 vediamo un po ci fa 16 di danno quindi davvero poca roba è adesso un curioso di vedere tu stai fermo un attimo in passivo ok l'abbiamo messo in passi però da questi qua difenditi da questi ok sono curioso di vedere i velenosauri quanto ci fanno di danno questo livello 10 poca roba però sono curioso stai fermino qua tu aspettami diamo un po mi attacchi please lei mi attacchi mi scusi non mi ignora che fa mi ignora proprio così no non va bene ma educazione ma porcaccia di quella miseria attaccami vai vediamo un po quanto ci fa 16 10 è già abbastanza ai figlioli è già abbastanza anche perché c'è un ratio di fuoco davvero pazzesco che mira delle palle sicuro questi velenosauri sono sempre un problema è porca miseria quanto mi ha tolto allora abbiamo preso un po di livelli otto livelli vediamo un po la salute si sale su parecchio la salute e poi il vigor di darei uno di due di vigore poi tutto il resto diamo danno da mischia così guarda quanta pietra che mi raccoglie quanta roba che mi raccoglie e basta e basta perché tu dai torniamo a casuccia va smettila di svolazzarmi sopra così veramente ecco bravo poi buttiamo via tutta sta roba e che palle famose ancora fuori questi così mori schiacciata ancora vivo e ancora vivo porca miseria che livello è questo 10 ok e poi direi fatto ciò buttiamo via tutto e ce lo crypodiamo che se no non mi passa più è lento riesco se vai così vai acchiappiamolo ok tu segui me torniamo c'è una casuccia ma porca misera il mio facocerino è stato inglobato dalla pietra non posso salirci ma porca bene cari figlioli anche questo episodio termina qui ci siamo fatti il golem sicuramente ci tornerà molto comodo quando dovremo affrontare quelle brutte orde di nemici magari nel prossimo episodio vediamo anche come farmare elemento ma nel frattempo voi mi raccomando lasciate un like se la serie vi piace sostenetela condividetela e noi ci vediamo prestissimo in un altro episodio ciao a tutti